ciao a tutti ragazzi qui in archiviz benvenuti in questo nuovo video tutorial ragazzi ben ritrovati sul canale mi scuso con voi per la lunga attesa per la lunga assenza dell'ultimo anno e ma ho dovuto lavorare ad alcune novità che arriveranno all'interno del mio canale e che vi svelerò nei prossimi video oggi volevo presentarvi il tema modello centrale come realizzare come realizzare un file centrale di lavoro al quale possono lavorare più persone più collaboratori che di volta in volta sincronizzando il proprio il proprio file aggiornano il file centrale prima di iniziare però vi chiedo di iscrivervi al canale nel caso in cui non lo abbiate ancora fatto e di attivare l'avviso di notifica per restare aggiornati su tutti i nuovi contenuti bene ragazzi quello che occorre fare è aprire un nuovo modello di progetto per creare un nuovo modello di progetto quindi sotto la voce modelli cliccare sul nuovo scelgo come file di modello il mio modello architettonico e crea un nuovo progetto a questo punto devo sotto la scheda la scheda collabora comando collabora nel gruppo gestione collaborazione clicco su collabora revit mi dirà che è necessario salvare il modello prima di poter collaborare con altri utenti questo perché non è stato creato ancora alcun file di salvataggio del mio progetto quindi dico a revit di salvare il modello e continuare possiamo salvare questo file questo si tratta di un salvataggio temporaneo che io effettuerò sul mio desktop quindi denominerò il file progetto progetto temporaneo progetto file temporaneo dico salva a questo punto revit vi chiederà se come desiderate collaborare se collaborare su una rete locale oppure se collaborare se salvare il vostro modello centrale in cloud io in questo caso dico a revit collaborare perché preferisco collaborare nella rete quindi voglio salvare il modello centrale in rete dico ok adesso quello che dovrò fare e sarà settare i miei workset di lavoro in questo caso per esempio mettiamo che abbiamo come primo workset le nostre griglie e livelli condivisi e il workset 1 sarà fondamentalmente la nostra struttura la struttura del nostro edificio poi abbiamo come workset 2 muri interni muri interni ok a questo punto dovrò dire a revit che tutti i miei workset di lavoro sono modificabili no questo perché prima di poter modificare non riusciamo a modificare perché in realtà dobbiamo prima salvare il nostro progetto ne abbiamo detto a revit di dove vogliamo lavorare dove vogliamo che il nostro la nostra collaborazione avvenga in questo caso sul server non abbiamo ancora salvato il nostro modello il nostro file centrale in questo caso io lo salverò sul desktop non dispongo di una di un server locale dico a voglio rinominare il file con progetto 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 qui dico salva a questo punto ragazzi vedrete qui in alto a sinistra si non sarà più bloccato il comando di sincronizzazione questo perché il file centrale di lavoro è stato è stato creato quindi io posso adesso cliccare qui su sincronizza e modifica impostazioni per aggiornare di volta in volta il mio file centrale prima di fare di fare questo però rivado nella scheda collabora gruppo gestione collaborazione clicco su work set e dico a revit di rendere i miei work set di lavoro non modificabili questo non significa che i miei work set di lavoro non saranno lavorabili ma semplicemente che io non sarò più il proprietario di questi work set di lavoro cosa significa ciò se io avessi lasciato sulla voce alla voce modificabile la dicitura si vedete ragazzi qui compare di fianco proprietario sal.991.com e la mia email associata ad autodesk questo significa che io sono il proprietario di ogni work set di lavoro il che a sua volta significa che se un altro collaboratore se io realizzo un creo nel mio modello un muro sul work set di lavoro struttura o in muri interni o in griglie livelli condivisi quindi il muro che ho creato in revit non sarà editabile dagli altri collaboratori che accedono al file centrale questo perché io sono il proprietario di tutti i work set di lavoro questo non è ciò che voglio io voglio che ogni collaboratore che accede al file centrale di lavoro al file centrale di progetto abbia la possibilità di modificare e di editare anche elementi che non sono stati creati da lui quindi dico a revit di sotto la voce modificabile con o in modo che io non sia più il proprietario di work set di lavoro confermo la modifica e sincronizzo il mio file centrale confermo ancora una volta e ragazzi il gioco è fatto a questo punto chiuderò temporaneamente il mio il mio file voglio mostrarvi una cosa adesso alla successiva apertura del 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 file centrale recandomi modelli apri selezionerò il mio file progetto na quiz progetto file temporaneo potete cancellarlo in un salvataggio temporaneo ad ogni apertura del file centrale vedrete qui la digitura crea nuovo locale che dovrà sempre essere attiva questo perché voi non accederete al al progetto al file centrale di lavoro ma aprirete di volta in volta verrà creato un file locale nel quale voi lavorerete quindi dico apri revit mi genera un file locale e di volta in volta che io apporto delle modifiche al mio file locale dovrò poi successivamente sincronizzare e il mio file locale verrà sovrascritto e le modifiche che io ho apportato al mio al mio file locale verranno sincronizzate nel file centrale di lavoro nel momento in cui io chiudo dopo aver sincronizzato chiaramente chiudo il mio file il momento in cui io riapro il mio progetto quindi modelli apri progetto na quiz dovrò ancora una volta creare un nuovo locale questa volta però mi dirà revit e guarda esiste già un file locale che ha questo che ha questo nome vuoi sovrascriverlo io dirò sì questo che di volta in volta che aprirete che accederete che vorrete che vorrete accedere al file centrale revit vi creerà una nuova un nuovo file locale che voi semplicemente di volta in volta andrete a sovrascrivere e una volta dentro lavorerete il vostro progetto e sincronizzerete le vostre modifiche in modo che gli altri collaboratori i vostri colleghi possano renderle visibili e possano lavorarci benissimo ragazzi con questo video tutorial è tutto spero che abbiate imparato qualcosa di nuovo se avete di dubbi vi prego di scriverli nei commenti a questo video se il video vi è piaciuto vi prego anche di lasciare un mi piace e niente noi ci sentiamo ci risentiamo al prossimo tutorial iscriviti al canale